Buongiorno a tutti, benvenuti alla Fiera delle Parole. Iniziamo con questo incontro, la quinta e ultima giornata del Festival di quest'anno. Sapete che il Festival l'abbiamo dedicato ad una parola importante, la cura, prendersi cura e abbiamo capito che per prendersi cura delle cose innanzitutto bisogna conoscerle e poi bisogna trovare qualcuno che dopo averle conosciute approfonditamente le riesca a raccontare. È per questo che abbiamo invitato alla Fiera numerosi divulgatori scientifici e oggi ne abbiamo uno eccezionale, uno che sicuramente avrete visto nel corso di questi anni numerose trasmissioni, Geo & Geo, King Kong, Gaia il pianeta che vive, Terzo pianeta, Che bella l'Italia, la Gaia scienza, Allarmi Italia, Atlantide, Fuoriluogo e adesso Sapiens. Lui è geologo, saggista, grande divulgatore scientifico, ma è anche primo ricercatore del CRN, è autore di numerosi libri, conduttore televisivi. Una curiosità, all'inizio della Fiera abbiamo avuto Umberto Guidoni, il grande astronauta italiano e con lui il nostro ospite di oggi, credo l'unico presente in questa Fiera che abbia ricevuto l'onore di avere un asteroide intitolato a suo nome. Oggi presentiamo come è nata l'Italia, all'origine della grande bellezza, Mario Tozzi. Alla fine dell'incontro il libro di Mario Tozzi è disponibile in fondo a cura delle librerie riunite, Mario Tozzi farà il firma copia. Grazie. Buongiorno, ci occuperemo anche di cura, sì un po' lo facciamo. Prima vorrevo spiegare perché nasceva questo libro. Naturalmente io non sono uno storico, dunque ne so veramente molto poco di dinamiche umane. Di quanto conta, per esempio secondo alcuni storici vicini all'aspetto geografico conta molto, appunto la volontà dell'uomo, il suo potere decisionale nei fatti storici, questo non sono in grado di indagarlo. Però quello che mi sono domandato è se è possibile indagare invece l'aspetto fisico che condiziona le dinamiche storiche. Dunque in particolare se si possa dire che alcuni fenomeni storici generali sono indirizzati, determinati, influenzati da qual è la storia del territorio su cui ti trovi. Insomma avremmo avuto Padova in questo modo se fosse stata da un'altra parte o se avesse avuto un altro territorio. Roma sarebbe stata costruita in quel modo se avesse avuto rocce diverse. Il barocco leccese sarebbe stato così se ci fossero stati altri tipi di rocce. E se l'Italia non si fosse trovata fra l'Africa e l'Europa, due grandi placche geologiche, avremmo avuto gli stessi italiani? Ecco la domanda è un po' ambiziosa, naturalmente non c'è nemmeno una risposta. Però ci sono tante altre domande che sono un affinamento delle prime domande. Però la cosa con cui voglio partire è vedere quanto possono contare questi fatti su alcuni, questi fatti fisici su alcuni fatti storici. Quello che mi ha più divertito e condiviso anche con tanti colleghi di lavoro e amici negli anni è quello del congresso di Vienna. Ora questa storia del congresso di Vienna io la trovo particolarmente antipatica perché non l'ho mai sopportata a scuola, era proprio una cosa che non mi andava di studiare. Lorri Dometternich, Talleyrand, tutta quella roba lì, l'Italia è espressione geografica, insomma cose di questo genere. Mi stava antipatico. Come nasce quel fatto? Nasce dalla sconfitta di Napoleone a Waterloo. Waterloo è una località del Belgio, la battaglia se non mi sbaglio è del 18 giugno del 1815, dunque stiamo parlando di un tempo vicino a noi, cruciale quel punto. Tanti hanno indagato perché Napoleone è stato sconfitto, si era imbrocchito, ha sbagliato una strategia, chissà può essere successo di tutto, quel giorno c'era mal di testa, soffriva di più del solito dell'ulcera, chissà, noi bene non lo sappiamo. Però una cosa la sappiamo che il vanto di Napoleone era la sua cavalleria leggera, questa comandata da Michel Ney, che muore peraltro proprio in quell'anno. E che questa cavalleria non arriva in tempo a colpire dove doveva gli anglo-prussiani e rimane sostanzialmente in ritardo, diciamo, rispetto a questo appuntamento. Poi lui perde la battaglia e poi viene esiliato, eccetera. Mentiamo un attimo da parte questo scenario e ipotizziamone un altro. Nello stesso anno, nel 1815, le condizioni meteorologiche sono piuttosto brutte su tutto il pianeta Terra, un po' inspiegabilmente, tanto che nel 1816 il presidente statunitense Jefferson, che era una specie di scienziato, aveva la fissa della meteorologia, annota nei suoi diari che sono stati ritrovati tutti i giorni le temperature e le piogge e alla fine sostanzialmente scopre che il 1816 è stato un anno privo della stagione estiva. Non è mai arrivata. Nelle isole britanniche, terzo scenario, i raccolti di patate in quegli anni furono piuttosto disastrosi perché la patata è un tubero che regge bene il freddo ma non le piogge. E aveva piovuto assai, più del solito. Tanto che da quel momento, 1815-1816, fino alla metà del XIX secolo, i flussi migratori verso gli Stati Uniti aumentano dalle isole britanniche fino ad arrivare al culmine della metà del XIX secolo. Vanno via. Non riescono a stare lì. Sempre in Inghilterra, ma per la verità pure in Francia, sempre nel 1816, quarto scenario, mancavano i cavalli. Nel senso che se li mangiavano nei posti dove faceva più freddo e erano partite queste carestie, e pioveva, si stentava a far campare le bestie e soprattutto i cavalli. E dunque qualcuno ebbe l'idea di mettere una specie di trave tra due ruote e farle muovere con il movimento dei piedi. I pedali non li avevano inventati una bicicletta cera. Il quinto scenario ci porta invece in Svizzera, a Ginevra, dove sul lago, quella che diventerà poi Mary Shelley, era insieme con il poeta Byron e altri amici personali di Byron, tra cui il suo medico, che provava pure lui a scrivere, e si misero a fare una specie di gara per chi scriveva la novella più gotica, più cupa. E questa gara la vince Mary Shelley con Frankenstein, un libro permeato di atmosfere cupe in cui chi ti dà energia è il lampo, il fulmine. L'ultimo scenario è un grande pittore che a me piace particolarmente, che si chiama William Turner, che da lì alla fine della sua vita, più tardi, dopo la metà del XIX secolo, dipinge tramonti straordinari, di rosso fuoco, arancio, quei bellissimi tramonti di Turner. Questi sei fatti possono essere regati? Questa è la domanda che mi sono fatto per far partire il libro. Secondo noi, secondo me, potrei dire in questo caso, ma in realtà è una discussione che fanno tanti geologi da tanto tempo, sì, e il minimo comune denominatore è un'eruzione vulcanica che avviene nell'aprile del 1815 in Indonesia, dunque dall'altra parte del mondo, nemmeno se ne accorgono gli europei, se non per questi riflessi. Questa eruzione è un'esplosione, questo vulcano non erutta l'ave, ma viene sostanzialmente spazzato via da questa grande esplosione. Le ceneri vanno in giro per l'atmosfera e in una decina di giorni fanno il giro del mondo e avvolgono una terra come in una specie di sudario, un inverno vulcanico. È già successo tante volte nella storia della terra, succede anche quella volta lì, quindi l'anno senza estate, quindi grandi piogge anche a giugno, che è un mese secco in genere per il Belgio, che è un paese piovoso, e a luglio, tanto da rendere un pantano il terreno di battaglia di Waterloo, dove la cavalleria si muove a stento, tanto da fradiciare le patate, tanto da rendere rossi i tramonti, tanto da uccidere i cavalli. Chissà se tutti questi dati sono, è possibile legarli scientificamente insieme, però la suggestione esiste, che sia stato un vulcano a determinare il congresso di Vienno alla fine. Quelli più, questa corrente, che è un po' determinista se vogliamo, il territorio governa alle nostre vicende, ha trovato adesso in questi ultimi anni una vocazione diversa, più che altro, più che come disciplina, come mettere insieme diversi saperi, che si chiama Big History. C'è un signore che si chiama David Christian, ma tanti altri, che mettono quasi sullo stesso piano, o perlomeno tentano di farlo, l'origine dell'universo e l'impero romano. La nascita delle stelle e la magna grecia. Le grandi esplorazioni e i primi minerali della terra, cioè cercano di ridisegnare una storia che tenga insieme tutte queste cose. Il DNA come il clima, gli assiro babilonesi come i fenomeni astrali. Per esempio, per fare un esempio di questa corrente, il metallo, l'argento che viene cercato dai conquistadores insieme a loro nel nuovo mondo, si è forgiato nelle stelle qualcosa come 10 miliardi di anni fa. Dunque, quella storia lì è condizionata dal fatto che si è formato proprio soltanto in quelle regioni. Il pepe nero, una delle cose che al tempo dell'esplorazione si cercava di più, nasce solo in certi posti per determinate condizioni geografico-climatiche che sono tipiche di quel posto lì. Un altro studioso che fa questo tipo di cose in maniera indipendente, le fa già da prima, si chiama Jared Diamond e in un libro bellissimo che si chiama Armi, Acciaio e Malattie e spiega come mai è stato Carlo V a invadere il Messico e non Montezuma a conquistare la Spagna. Tutto dipende da dove nascono l'agricoltura, l'allevamento, la scrittura, la cultura, la tecnologia. Parte prima l'Europa, l'Eurasia parte prima, dunque trova gli altri impreparati. Ma parte prima per diverse condizioni di partenza, appunto. ci sono solo quattro specie di piante domesticabili in Sud America con il seme abbastanza grosso, ce ne sono 32 in Eurasia. Dunque in qualche misura è quasi determinato da questi fatti l'inizio anticipato che ha la storia sostanzialmente in Eurasia. Ora tutto questo per dirvi che molto più modestamente invece in questo libro cerco di vedere qual è il condizionamento più geologico sulle cose italiane. Anche sugli italiani perché in qualche modo questo influisce. Per esempio è molto bizzarro che in tutte le specie di animali che ci hanno preceduto sul suolo italiano, prima di noi sapiens e anche prima del genere uomo, quasi tutte sono affette da forme di nanismo. I dinosauri. Il dinosaurio più famoso italiano è una specie nana, si chiama Ciro, il nome scientifico è Scipionix samminiticus, ma è un piccoletto, già è cucciolo, ma in più è pure nano. Quindi gli elefanti italiani erano così piccoli che oggi potrete vederli in alcuni musei a Roma e a Palermo. Il cucciolo di questo elefante, Falconeri si chiama, è grosso come un cane. Completo, lo scherzo è ricostruito, piccolo piccolo. E così si potrebbe dire che anche in certi casi gli italiani isolani hanno risentito di queste condizioni al contore, dunque le loro dimensioni corporee erano ridotte. Siciliani, sardi, ma non solo, calabresi, eccetera, proprio per reagire a un certo territorio come gli animali, non si vede perché ci dovremmo comportare diversamente, avevano dimensioni ridotte. d'altro canto l'Italia è figlia della pietra. Io chiamo un capitolo del libro italiani figli delle pietre e del metallo e del ferro in particolare, costruttori di paesaggi e creatori di città. Il nome stesso Italia deriva da come veniva chiamata l'isola d'Elba, Italia, e cioè la Fuliginosa, perché lì da sempre fondevano il ferro, cioè bruciavano cadastra di tagname per fondere il ferro. Questi fumi erano i fumi in cui noi ci siamo forgiati di fatto. Nelle piccole isole italiane, veramente pure nelle grandi, diciamo Sardegna, Sicilia e tutto l'arcipelago toscano, tutto facevano gli abitanti di quelle isole fuorché i pescatori, facevano gli agricoltori e i minatori. Hanno fatto i minatori fino agli anni 70, tutti. il bacino del sul, Cisiglasia, intera, il bacino minerario più importante insieme alla Rur in Europa. Il distretto dello zolfo siciliano è stato per tre secoli al centro dei commerci mondiali, con lo zolfo ci si faceva tutto, prima che si inventassero altri mezzi di produzione. E il ferro veniva lavorato dai nostri antenati, per non parlare degli etruschi, e quindi noi abbiamo un po' questa radice molto legata alla terra, che vediamo anche nelle città. Prendete Napoli. Napoli è sostanzialmente fatta tutta con il tufo giallo, che è il residuo di una grande eruzione dei Campi Flegrei, il vulcano più grosso che abbiamo, il nostro super vulcano. Questa eruzione, di alcune decine di migliaia di anni fa, che ha avuto varie fasi fino a 12.000 anni fa, ha fornito una grande quantità di ceneri che una volta è stata compattata e sono diventati questi tuffi gialli, con cui è costruita quasi tutta la città. E le strade di Napoli sono lastricate da basoli neri della lava del Vesuvio, più figlia di così. Non sarebbe stata nemmeno quella. Non avrebbero potuto i greci della partenope creare le loro cisterne, i loro condotti sotterranei, se non ci fosse stato quel tufo lì, se fosse stata una roccia più dura da scavare. E così pure non avrebbe potuto offrire albergo tutta quella rete di cavità sotterranea di Napoli, fino alla Seconda Guerra Mondiale, per non parlare degli usi che ne hanno fatto prima, se non fosse stata fatta in quel modo. Roma. Roma è figlia di un tufo diverso, infatti la gran parte della città è costruita effettivamente con mattoni di tufo, però è scuro, è rosso, si chiama tufio rosso a scorie nere, e poi rivestita di travertino, prima che arrivino i marmi dalla lunigiana o dalle isole greche o da altri posti. Dunque è veramente figlia dei vulcani che a Roma, a Roma c'erano due davanti, uno a sud e uno a nord, che hanno condizionato la storia. Anzi, se ci pensiamo bene, Roma un milione di anni fa naturalmente non c'era e non c'erano nemmeno quei vulcani che stavano per eruttare, fuori dalle acque venivano fuori solo gli appennini. A un certo punto eruttano questi vulcani, già dagli appennini scendevano i primi fiumi, un vecchio Tevere già c'era, ma trova un vulcano sulla sua strada, altrimenti il Tevere sarebbe sfociato ad Anzio. Invece trova un vulcano che cresce, fa un gomito e va a finire a Ostia. In quel gomito nasce Roma. Quindi il condizionamento è forte degli elementi geologici e fisici su quella che è poi la storia degli italiani, direi in generale. L'avevo citato all'inizio il barocco Leccese perché non avremmo quel barocco lì se non ci fosse quella roccia particolare che è un'antica spiaggia così cariabile che si viene mangiata dal tempo, infatti lo vedete spesso intonacato il barocco Leccese, poi c'ha delle cavità, si vedono uscire fuori le conchiglie quasi dappertutto e se non quella roccia così dorata avesse rimandato indietro dei colori del tramonto straordinari. È proprio la luce che prende un gioco diverso in quel barocco che dunque in qualche misura è più magico per questa ragione qui. Naturalmente sulle città io le tratto estesamente, questo discorso può essere fatto in molte maniere. Un'altra cosa particolare è a Roma il colonnato di San Pietro, non però diciamo il colonnato esterno di Bernini, quello che sta dentro. Chi se lo ricorda, se non ve lo ricordo io, come entri nella Basilica, vedi alcune colonne molto, le colonne più grandi sono rossoscure con tanti elementi chiari, bianchi, screziate di bianco. Non è un marmo particolarmente pregiato quello, anzi non è nemmeno un marmo per dire la verità, è una roccia sedimentaria che però ha quel bel colore rosso e bianco perché è figlia di una particolare situazione geologica. Infatti quando si costruivano e si abbelliva San Pietro non c'erano più tanti denari a disposizione e la ricerca di questi marmi pregiati non poteva essere più neanche lunigiana, neanche fuori dall'Italia, ma avevano scelto un raggio di una sessantina di chilometri dalla capitale, gli ingegneri e gli architetti, per reperire questo materiale. In un paese sperduto che si chiama Cottanello, in provincia dei Rieti, c'è ancora una cava dove riposano queste colonne non estratte, cioè da me non estratte ma non hanno fatto in tempo a scavarle tutte, una si è rotta, l'altra non l'hanno portata via. Questa cava sta proprio lungo una grande spaccatura enorme dell'Italia centrale che è una faglia. Questa faglia quando si è messa in movimento, oltre ad aver generato terremoti, ha tirato su dal profondo delle acque ricche di calcite, quindi quel bianco che c'è all'interno di quella roccia rossa è questa calcite che è salita su. Più stai vicino alla faglia più c'è calcite, dunque più la colonna è bella e infatti hanno scelto queste qui, le più belle, per ornare San Pietro. Ma poi hanno continuato a fare chiese, per esempio a Sant'Agnese in Agone, sempre a Roma, si vedono le stesse rocce di quella cava lì, ma non sono più quelle bianche, quelle le avevano finite, cioè la parte più vicina alla faglia era esaurita. Dunque sono meno screziate, via via che passava il tempo ricavava il materiale che era meno pregiato, tutto figlio di una spaccatura nel terreno. Allora questo tipo di suggestioni sono, come posso dire, il contenitore in cui poi si è agitata la storia degli uomini. Secondo me l'ha condizionata in maniera molto precisa, alcune società italiane sono state metallurgiche sempre, per esempio i sardi, per esempio gli etruschi, ma per esempio anche i medici hanno portato questa sapienza metallurgica fino sostanzialmente quasi a esaurire le colline metallifere e tutti i giacimenti che ci sono in Toscana. Dunque per non parlare appunto della civiltà dello zolfo che dicevo prima, in Sicilia c'era addirittura il padre di Sciascia, lavorava nelle miniere di zolfo, lui ricorda sempre di aver respirato quell'aria lì, Pirandello stesso, tutti quelli che hanno scritto lo zolfo, Camilleri compreso la civiltà dello surfaro, erano legati a quel distretto tra Caltanissetta e Agrigento che produceva per quasi 300 anni più zolfo che in qualsiasi altra parte del mondo. C'erano proprio i matrimoni dello zolfo, si sposavano i minatori tra loro. In Sardegna invece, dove era il piombo argentifero e lo zinco a essere considerati i minerali più importanti, si batteva addirittura moneta nelle miniere, una moneta locale, per regarti per tutta la vita a quel posto, perché non te ne andai più, dove la spendevi quei soldi lì, ammesso che riuscissi a metterti da parte? Proprio solo lì, civiltà legate alla terra e ai minerali. Figli di quelle stelle lì, quelli sono gli elementi che 10 miliardi di anni fa, appunto, venivano sintetizzati nelle stelle più vicine a noi e noi pure ne abbiamo ramazzati. Quando la terra si forma, 4 miliardi e mezzo anni fa, ramazza un po' tutto quello che c'è nella zona dove si formerà, prima di cominciare a orbitare. E lì prende tutto quello che c'era, compreso questo retaggio stellare antico. Ma anche l'acqua sulla terra è figlia di quella roba lì. L'acqua che abbiamo in Italia, ma anche che abbiamo al mondo, per l'80% dipende dai vulcani, dunque dipende dal soffio della terra, dal degassamento della terra. Ma per il 20% dipende dalle comete. Sono le comete che incrociavano da fuori del sistema solare, arrivavano sulla terra calda, sono come delle palle di ghiaccio, perdevano il loro contenuto e lo mescolavano con il resto dei vapori d'acqua. Dunque noi siamo sempre un po' figli, ora mi viene figli delle stelle, guarda un po', ma siamo sempre un po' figli di queste situazioni astronomiche un po' lontane da noi. Come lo siamo pure per il clima, quando le cose sono governate solo dagli elementi della terra, le ultime glaciazioni, io nel libro qui ci dico un po' di spazio, hanno permesso di disegnare l'Italia molto diversa da come la conosciamo. Noi diciamo sempre che l'Italia ha la forma di uno stivale, effettivamente può somigliare. Ma se ci spostiamo soltanto a qualcosa come 50.000 anni fa, durante l'ultima glaciazione, non era per niente uno stivale. Siccome i ghiacciai avevano trattenuto molta acqua, il Po per esempio sfociava da Ancona, dunque un pezzo di adriatico mancava. Le isole erano tutte più grosse, l'Italia era più grossa della forma che c'è oggi. Ma 3 milioni di anni fa invece, quando faceva più caldo e quasi non c'erano i poli ghiacciati, lo stivale era diventato secco, secco, non c'era più la forma. Nel libro troverete quattro figure di queste ricostruzioni. Io ci ho messo il puntinato con la forma della penisola, ma se ce lo levate è tutta un'altra forma, tutta un'altra storia effettivamente. Qui ho aperto anche una finestra sul clima che brevemente volevo riproporre oggi perché quando vediamo queste previsioni sul cambiamento climatico a proposito della fusione dei ghiacciai, ci dicono che nel prossimo futuro il livello dei mari crescerà al massimo, dicono, di una novantina di centimetri per via della fusione dei ghiacci. Io però questa cosa non l'ho capita, nel senso che se rivedo quella carta che appunto ho messo nel libro, che è vero che è di 3 milioni di anni fa, ma sappiamo per certo che è successa, lì il livello del mare è più alto di 25 metri. Per non parlare di ritornare al Cretacico, al tempo dei dinosauri, quando i poli ghiacciati proprio non c'erano e il livello dell'acqua era più alto di 50 metri. Dunque capisco poco questa previsione, mi sembra un po' di minima rispetto a quello che potrebbe davvero essere. Potremmo forse non sapere bene quando, ma certamente sappiamo che salirà di più, perché nulla sembra controvertire questo cambiamento climatico. Dunque è molto complicato vedere su che base fare quella previsione lì. Infatti poi ho trovato, spolciando degli studi un pochino più approfonditi di Oxford, dunque con sesso importante, che ci dicono che il mare sarà più alto di 12 metri. Ecco, a quel punto l'Italia assomiglierà molto a quel pliocene lì, che vi ho ricordato prima, dei 3 milioni di anni fa. E addirittura qualcuno prevede che possa essere anche più alto il livello del mare. Se fondessero tutti i ghiacci della terra oggi, mettiamo che fondano tutti insieme, avresti tra 50 e 80 metri di livello dei mari più alti. Però devono fondere proprio tutti. Noi siamo difisi molto dall'ultimo ghiacciaio antartico. L'Antartite, sapete, è più grande, è una volta in mezza Europa, è parecchio grande, e ha questo ghiacciaio orientale che è molto spesso. Quella è la nostra assicurazione per adesso. Fino a che quello regge, e calcolano che reggerà probabilmente per un altro paio di secoli almeno, l'alzamento della temperatura non sarà così forte. È come se tu volessi riscaldare, che ne so, un bicchiere d'acqua. Se ci mettete il ghiaccio dentro, lo riscaldi con più difficoltà. Ecco, fino a che resta quel ghiaccio lì, noi stiamo un pochino più sicuri. Ma gli altri spariranno tutti. A quel punto il livello del mare sarà molto più alto. Per intenderci, l'acqua arriva a Torino, non si ferma a Venezia, ecco, per dare un'idea dell'Italia. Questo calcolo l'ha fatto anche l'ISPRA, e ci dice appunto che sono circa 5.000 ai chilometri portati d'Italia che potrebbero finire sott'acqua. Ma nel disegnetto che ho riportato io, che è una ricostruzione scientifica, sono molti di più. Volevo chiudere sul cambiamento climatico perché mi interessa proprio dirlo, ormai lo dico in ogni consesso, io nel libro lo tratto perché naturalmente l'Italia si trova nella zona di passaggio fra l'Africa e l'Europa. Dunque, da questo punto di vista, è più sensibile a questi cambiamenti. Dunque, la parte meridionale rischia di essere desertificata. Quella settentrionale è tropicalizzata, quindi stiamo proprio in quel punto lì. Ma dicevo, lo ricordo perché c'è tanta anche comunicazione su questo tema. Spesso si sente, sono sicuro che anche voi lo avete sentito, gli scienziati non sono d'accordo su questo cambiamento climatico. Alcuni dicono che dipende dall'uomo, è anomalo rispetto al passato ed è accelerato e altri invece dicono di no. Io questa cosa non l'ho trovata. Però, siccome è sempre un po' difficile comunicare queste faccende, sono un po' ostili, ho firmato un documento che si chiama Per la comunicazione non ostile della scienza. Come se la scienza dovreste giustificarsi. Però non si può fare a meno di dire che non è vera questa cosa. Non ci sono due posizioni fra gli scienziati. Gli scienziati hanno tutti una posizione, quelli che studiano il clima, che ci dice che il cambiamento climatico è accelerato, anomalo rispetto al passato e dipendente dall'attività dell'uomo. Perché dico questo? Perché per valutare una posizione scientifica non si può leggere il giornale. Devi guardare le pubblicazioni scientifiche. Cioè a dire che se io sono uno scienziato, mi occupo di clima e penso che non è così, credo che dipenda da questioni naturali, prendo il mio pc, guardo i miei dati, rielaboro e scrivo una rivista in cui altri scienziati i miei pari grato, giudicano il metodo con cui ho fatto questa ricerca, se la fonte dei dati è certa e non entrano nel tipo di conclusioni. Quello sarebbe nel merito. Fanno solo una questione di metodo. Se l'articolo passa da quel momento in poi viene pubblicato, quello fa testo, fa letteratura. Allora c'è un signore che è un mio collega geologo, che peraltro ho anche conosciuto, che si chiama James Powell, che si è preso la briga di andare a contare sulle riviste scientifiche quanti sono i lavori che dicono che il cambiamento climatico è accelerato e anomalo e dipende dall'uomo e quelli che no. Allora, io ricordo il biegno 2013-14 perché è quello più eclatante, ma i numeri sono più o meno quelli, li potete controllare. In quel biegno ci sono 62.000 e passa pubblicazioni che sostengono questa tesi e 36 che sostengono l'altra. Cioè lo 0,06%. Ora, è chiaro che in scienza può avere ragione anche uno solo. Se, diciamo io, fino a che io lascio cadere un oggetto e quello va per terra, Newton ha ragione. Quando andrà verso l'alto avrò ragione di dire che ha sbagliato, ma fino a quel momento lì. Però, non è democratica la scienza, no? Non è che decidiamo qui la velocità della luce per l'alzata di mano. Quanto è? Però, è come se io prendessi in considerazione a un convegno sulla forma della terra, quelli che mi dicono che è piatta. O a un convegno sul fumo, quello che mi dice mio nonno ha campato fino a cent'anni e fumava. Può essere, però dal punto di vista scientifico conta molto poco. Ecco, questo ci tenevo a ribadirlo, perché altrimenti continua ad alleggiare questa favola che gli scienziati hanno due posizioni. No, gli scienziati che studiano il clima ce ne hanno una sola, fondamentalmente. Poi, bisogna pure dirlo ogni tanto, perché se no continuiamo a ripeterci sta faccenda. Poi, naturalmente, quello che è bizzarro, che vi dà la controprova, che le cose che sto dicendo, diciamo, a parte che potete controllare da soli, è che questi che parlano, i cosiddetti negazionisti, intanto non sono quasi mai scienziati del clima. Perché il clima lo studiano i fisici dell'atmosfera e i geologi. Geologi per i palioclimi e i fisici dell'atmosfera per i meccanismi. Quelli che scrivono sono fisici delle particelle, chimici dei materiali, intellettuali. Hanno posizioni rispettabili, voglio dire, ognuno si coltivi la sua, ma non fanno scienza. Ci raccontano la loro opinione. Mi importa assai che quello è stato Nobel per la fisica, se la sua era la fisica delle particelle, a proposito della fisica dell'atmosfera. Ne sa quanto io, di filologia romanza, zero. Bisogna considerare questo aspetto. È come se io fossi malato di cuore e invece di andare al cardiologo andassi al proctologo. Vediamo come sta la prostata. Eh, beh, non c'entra niente. Eppure sono medici tutte e due. E questo bisogna che sia chiaro. Però questa è una parentesi. Invece voglio concludere, poi magari se c'è qualche domanda la sento volentieri, parlando del grande condizionamento geologico sull'Italia, ecco, quello, diciamo, più complessivo. Prima siamo stati sulle rocce, sulle questioni che riguardavano altri fatti. Però l'Italia tutta, intanto è un paese di montagna e quasi nessuno di noi lo sa, nel senso che noi ci sentiamo tutti di pianura, pure stiamo a Padova, e comunque noi a Roma, e chi sta a Milano, come se fossimo un paese di pianura. In realtà siamo un paese di colline e di montagna. Ma tutte queste montagne e colline dipendono dal fatto che l'Italia si trova proprio in mezzo fra l'Africa e l'Europa, come dicevo all'inizio, che sono due blocchi geologici che ormai oggi spingono l'uno contro l'altro. E da questa spinta risultano le catene montuose, i vulcani, i terremoti, il fatto che siamo un territorio giovanissimo con il suo rischio idrogeologico, con tutte queste cose qua. Noi questo tendiamo a dimenticarlo, ma quel pezzetto di Africa, perché noi dal punto di vista geologico siamo africani fino a qui, anzi fino alle Alpi. L'unico pezzo di Italia che non è Africa è la Sardegna, perché quella stava attaccata all'Europa. C'è tutta un'altra storia, infatti anche il territorio più antico e con meno rischi naturali. Ma per tutto il resto noi siamo africani. Ecco, che questo pezzetto di crosta africana che qualcuno ha chiamato Adria, una piccola placca in mezzo fra queste due, abbia condizionato la nostra storia più antica nei fatti della geologia. Ma un po' ci ha condizionato anche dopo, perché abbiamo appunto un paese con tutti questi rischi, con tutte queste montagne, con tutti questi aspetti, con tutte queste rocce, tutti figli di quella roba lì, di questo grande scontro epico. Ma prima di questo scontro, l'Italia nemmeno esisteva, altro che espressione geografica, era il fondo di un mare, un vecchio oceano che si chiamava Tetide, come la madre di Achille, e che occupava tutta la zona dove c'era l'Italia. Immaginiamo che l'Italia di quel tempo era tutta sott'acqua, c'erano delle isole, addirittura c'erano dei pezzi di continenti, perché si è scoperto proprio ultimamente che l'Italia è una terra di dinosauri. Per esempio in Puglia c'è un sito che ha qualcosa come 25.000 impronti di dinosauri, dunque non poteva essere un'isola, doveva essere, quelli sono animali pesanti, hanno bisogno di mangiare assai, quindi stiamo un po' cambiando le nostre idee, ma insomma fondamentalmente era sott'acqua tranne questi pezzi dove andavano in giro questi dinosauri, i dinosauri pugliesi che ormai si ritrovano dappertutto. Pensa che a forza di pensarci, una volta che sono state scoperte queste impronte, anche in altri luoghi li hanno cominciato a trovare. Per esempio ad Altamura, questo struscio che vi raccontavo prima, di dinosauri, c'è solo erbivori, a Molfetta ci sono solo carnivori, nei blocchi del porto di Bari, che uno magari va lì per farsi una passeggiata, si vedono impronte di altri dinosauri, è proprio una terra frequentatissima da dinosauri, ma anche qui ci sono, ai Lavini di Marco, a Trento, in altre zone, insomma, in passeggiata di dinosauri ce ne abbiamo parecchie. Purtroppo dove passeggiano non si conserva lo scheletro, quindi abbiamo solo le impronte, e ricostruire un dinosaurio dalle impronte è una scienza molto particolare, si chiama icnologia, c'ha però un aspetto importante, che mentre dallo scheletro tu riconosci la, come posso dire, l'anatomia, anche un po' la fisiologia, le patologie, dalle impronte riconosci, cristallizzano un gesto di movimento in vita, dunque ti dice qualcosa di più, se ci si pensa bene, come camminavano, come scodavano, come appoggiavano le zampe, come in qualche caso si accoppiavano, è veramente una scienza molto feconda. Ma dicevo, tutto questo arcaico ricordo che abbiamo dell'Italia primordiale era un ricordo sottomarino. Poi a un certo punto sono cominciate a venire fuori isole e atolli, comare e dolomiti, sapete tutti che lì si trovano rocce di mare e montagna, sono anzi il posto più classico per studiarle, e noi questa impronta un po' ce la portiamo dietro. Noi siamo nati in un posto, geologicamente, che era come le Bahamas, come le Everglades, anzi forse meglio nella zona dove stavano i dinosauri, un posto tropicale, di gran caldo e di grandi acque. Qui vicino a Bolca c'è una pesciaia molto famosa, un giacimento di pesci fossili, uno dei forse più importanti del mondo, in cui si vede che noi eravamo quegli animali lì, non c'erano altri italiani che quelli, dentici, squali, anguille elettriche, c'era di tutto, insomma un posto bellissimo. Con le palme ritrovate lì, conservate nel museo di Verona, dunque un posto tropicale, un'altra Italia, che però appunto non aveva ancora la forma. Questo ci ha fatto diversi? Analizzando, e nel libro lo faccio, le ultime due cose che vi dico, gli uomini, noi abbiamo il Neandertal più antico, più arcaico, meglio conservato, più completo, Europa. tanto da far pensare che l'addizione Neandertal, quello che viene da una valle tedesca, debba essere cambiato, perché ad Altamura, sempre ad Altamura, si trova questo uomo che hanno chiamato Ciccillo, e che è, no, vabbè, so perché abbiamo questa mania, è tutto completo, raggrumato, come un pipistrello, dentro una grotta profondissima, ed è il nostro antenato, diciamo, sicuro del momento in cui Neandertal, qua ce n'erano parecchi. Poi ci sono i Sapiens più arcaici da noi, per esempio, sempre in Puglia, hanno trovato dei molari di Sapiens di 50 mila anni, è difficile andare un po' più indietro, e poi ci sono le grotte dipinte, sempre in Puglia, qui siamo però già nei Sapiens, che sono meravigliose. In una di queste grotte, figlia di quei materi, per quegli uomini che dipingevano le grotte, era importante la parete, cioè, quella parete di lei, con tutte quelle sue forme, la parete di una grotta, per loro era il passaggio all'altro mondo, infatti erano gli sciamani a fare questo lavoro. Quando vedete impresse quelle mani, ce ne sono in varie grotte, anche in questa dei cervi in Puglia, quello che facevano era sentire il contatto con quell'altro mondo, immaginate che entravano in quel posto al buio, dipingevano con queste fiaccole, tre emule, e poi a un certo punto iniziavano lì, per esempio le impianti sono spesso di bambini, che certo non si avventuravano in grotta da soli, però venivano portati lì per un rito iniziatico, proprio dentro una religione sciamanica, che era l'unica, gli abitanti della terra per la maggior parte del tempo, i Sapiens sono stati figli di quella religione lì, le religioni monoteiste sono arrivate dopo, e anche le altre, lì facevano un'altra cosa, e si vedono raffigurati questi sciamani, che sono metà animali, metà uomini, prendevano il potere dagli animali, che venivano sentiti come divinità, e ci si mescolavano per intermediare, e chiedere più pioggia, più cibo, più fertilità, le cose che lo sciamano mediava con quel mondo, lo faceva con le pareti della grotta, in questa grotta dei Cervi c'è anche un famoso sciamano danzante, che alcuni chiamano Dio danzante, che faceva, non sapevano come dargli il movimento, quindi gli hanno messo più gambe e più braccia, per farlo sembrare alla luce della fiaccola qualcosa che si muovesse, ma degli artisti straordinari, noi abbiamo un po' tutte queste eredità, siamo stati creatori di grande bellezza, ma pure di grande bruttezza per la verità, oggi le nostre periferie sono, a Roma per vedere le cose belle, le devi andare bendato dall'aeroporto fino al centro, perché è bene che tu non veda quello che c'è, ma quasi tutte le periferie italiane, io però di questo aspetto non mi preoccupo, penso che quella che chiamiamo un po' retoricamente grande bellezza, sia figlia di questo territorio specificamente, anche di un modo che avevano gli italiani un tempo di affrontare la vita diversamente, racconta Goethe nel suo viaggio in Italia, che quando scendeva sul lago di Garda, si fermò in un paesino dove gli hanno dato albergo in una locanda, lui racconta che sposta le superlettere e mette il tavolo proprio sotto la finestra per godere del panorama, lui chiama l'Italia il paese degli agrumi perché capita proprio a Garda, dove c'è quel microclima che ti dà dunque un clima quasi mediterraneo, e allora poi chiede, nota che non ci sono vetri alle finestre, ma più che altro nota che gli italiani vivevano in strada, stavano tutti in strada, e gli domanda dove posso trovare un bagno, e quello gli dice liberatevi dove volete, e lui annota, dice io non ho mai conosciuto un popolo così povero in qualche modo, ma così felice, questo se lo porta presso dovunque, poi quando scende a Roma lui fa le altre considerazioni, immagina in un posto che era Italia, ma non monumentale, lui trovava questo carattere particolare degli italiani, e infine l'ultima parte del libro è dedicata ai rischi naturali, un po' li ho accennati, perché sono figli di questo territorio, fatti così è la materia in cui sono stato purtroppo più sollecitato negli ultimi anni, l'idrogeologico, quello sismico e quello vulcanico, quello vulcanico noi non lo sopportiamo nell'ultimo periodo perché non ci sono state grosse eruzioni se non quelle di Stromboli, quello sismico ogni tanto ci colpisce, quello idrogeologico, tutti i giorni. Nel libro cerco di spiegare di nuovo le ragioni di questa cosa, ma mi sono fatto una domanda con la quale vi sto. E cioè perché, pur essendo noi protagonisti di una storia lunghissima, e vivendo in queste condizioni in cui il rischio è forte, reagiamo così male, per esempio, a rischio sismico? Cioè perché da noi un terremoto di magnitudo bassa fa così tante vittime e così tanti danni? E in Giappone no. Guarda che è una cosa curiosa, perché il Giappone è molto simile all'Italia, vabbè, quella è un'arcipela, con noi siamo una penisola, ma insomma è montuoso di brutto come l'Italia, è più grosso, più abitato certamente, ma in proporzione. E c'ha lo stesso rischio idrogeologico, quello vulcanico è in più un rischio sismico più forte, perché lì quando arrivano le scosse sono molto forti, arrivano a magnitudo 9, da noi al massimo si arriva a magnitudo 7,5, ma nemmeno ce la ricordiamo, diciamo che 7 è il limite. Perché? Perché loro hanno cominciato a... Uno direbbe, vabbè, perché noi costruiamo male, sì, effettivamente lo è, ma abbiamo costruito male soprattutto nel periodo recente, ma comunque, perché comunque costruiamo male? Perché effettivamente i giapponesi hanno fatto, dal VI secolo, quando cominciano a registrare bene questi terremoti, li hanno inclusi in una mitografia molto particolare. Per i giapponesi il terremoto è un dio che ha le sembianze di un pescegatto, che sta sott'acqua e sottoterra, il pescegatto si infossa proprio nel sedimento. Ogni volta che muovo la coda c'è un terremoto. C'è anche i figli, il terremoto di magnitudo più piccolo sono i suoi figli. Perché lo sappiamo? Perché l'hanno rappresentato in circa 400 dipinti, in cui si vede questo dio che si chiama Namatsu, in vari atteggiamenti. Per esempio, in uno dei più famosi, quello che a me forse piace di più, c'è questo pescione che occupa tutto il dipinto. E poi si vede che ha appena fatto un terremoto, infatti c'ha l'occhio un po' così, e arrivano gli abitanti giapponesi a cercare di punirlo, chi arriva con la clava, chi con la spada, chi con la mazza. Ma nella parte in alto a destra del disegno, del dipinto, arrivano altri abitanti, pure questi armati, che non se la pigliano con lui, ma con quegli altri che lo vogliono uccidere. Chi sono questi qui? Sono tutti quelli che dal terremoto guadagnano. Falegnami, muratori, carpintieri, prostitute, si metteva un cantiere in vita. Che ci dice questo? Che i giapponesi capiscono benissimo la doppia natura del terremoto. È un momento di crisi, ma anche di ripartenza. Infatti Namatsu ha un nome giapponese che non vi starò a dire, che significa riordinatore del mondo. Ci dice anche un'altra cosa questa mitografia. Che terremoto sta nel posto dove deve stare sotto terra? È lì. L'hanno messo bene e hanno capito che conviene utilizzarlo per ripartire. In più, Namatsu in tutti questi dipinti non muore mai. Pensa che ce n'è uno in cui lui si mette il kimono. Si mette le maniche del kimono sotto le pinne perché non c'è le cose. Come facevano i samurai? Per tenersi la katana dentro il petto quando si ammazzavano, tenevano le maniche del kimono per non rinculare, dunque per stare lì sopra. Lui si acconcia nello stesso maniera, è pronto quindi al seppoku, al suicidio rituale, ma nel dipinto successivo c'è ancora. Cioè sta sempre vicino per essere sconfitto, ma non muore mai. Non muore mai? C'è sempre. Sta sotto terra ed è occasione di riorganizzazione del mondo. Come rappresentiamo noi il terremoto? E anche i vulcani, per la verità. Da noi pure c'è un dio dei terremoti. Un dio, noi non siamo apparentemente politeisti, ma abbiamo un santo protettore dei terremoti che si chiama Sant'Emidio. È il protettore di Ascoli Piceno, dunque è importante. Era così importante Sant'Emidio che dopo il terremoto di Lisbona nel 1755 fu portato in processione fino a Lisbona, richiesto dalla città lusitana. A parte che il terremoto era già avvenuto, non so, perché comunque quello è stato il terremoto più forte che ha sconvolto l'Europa, 8,1. Il terremoto dell'illuminismo venne chiamato. Ma insomma fu portato fino là e andava colonizzando i vari paesi dell'Italia centrale. Anche Avezzano aveva preso Sant'Emidio come santo patrono. Poi c'è stato il terremoto nel 1915, 40.000 morti. Non se ne è più sentito parlare lì. Ma insomma Sant'Emidio è il nostro protettore. Come viene rappresentato Sant'Emidio? Anche lui ha la sua rappresentazione. Per esempio nel Duomo di Teramo, anche in altre gallerie, si vede Sant'Emidio che sta dentro una nuvola, dunque in cielo, e guarda solo la Madonna e il bambino. Si guardano. Sotto c'è il disastro. Case grollate, gente morta, chi sta in preghiera. Ma lui non li guarda proprio. Il terremoto sta in cielo. Non è sotto terra. Non deve avvenire. E' un miracolo, se tu ti salvi, è un miracolo che ti porterà un altro beneficio nella vita ultraterrena quando morirai. E' proprio un'altra filosofia. Ecco perché da noi è sempre fatalista l'attesa del terremoto. Chissà se arriverà. No, lo sai che arriverà. Non è che ti puoi sbagliare. Siamo sicuri che arriverà. Ma mentre i giapponesi l'hanno incorporato nel loro orizzonte culturale, noi l'abbiamo messo in cielo. Dunque, se mi salvo, non è perché ho costruito bene, è perché mi salva Sant'Emidio. Io credo che la ragione sia culturale, non scientifica. I tecnici italiani, i geologi italiani, sono come quelli giapponesi. Le faglie le abbiamo studiate. Cioè, è tutto uguale. Perché non ti risolvi a farne azione politica? Perché pensi che magari non mi... Speriamo che non mi capita. E chiudo con l'ultima, che è quella del Vesuvio. Pure al Vesuvio rappresentano la lotta col vulcano, con un santo. Infatti, un comandante delle truppe alleate in Italia, a Napoli, nel 44, che ha scritto un libro bellissimo, che si chiama Napoli 44, appunto, se ne va in giro con la jeep, avendo gli aerei bloccati dalle scenerie del Vesuvio, che stava ruttando proprio nell'estate del 44. Lui è di formazione anglosassone, di studi, dunque vuole andare a vedere il vulcano che sta facendo. E si inerpica con la jeep, si chiama Norman Mair, si inerpica con la jeep fino al paese di San Sebastiano, dove c'era la colata. Quella volta il Vesuvio non stava facendo nubi ardenti, ma colate. Poi sono andato a visitarli, sono ancora lì, è in mezzo alle case. Quando arriva, il paese è deserto. E quasi tutto il paese è davanti alla colata vulcanica, mostrandogli la statua di San Sebastiano. E lui gli domanda ragione, ma che fate? Dice lui, come... Dice, guarda, non prenderci in giro, perché lo sappiamo che funziona, ha già funzionato. Torna indietro, fuori dal paese c'è un'altra processione. Questi hanno lo stesso una statua, ma sotto un lenzuolo. Sotto c'è San Gennaro. Non avesse funzionato il primo. Era pronto quello più potente. Si può salvare un paese così? No. Grazie. 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 Rimango a disposizione se c'è qualche domanda. Ho sbagliato. Norman Lewis si chiamava, scusatemi, mi è partito Myler. Non so perché Norman Lewis era l'autore di Napoli 44 per Adelphi. Se qualcuno vuol farmi qualche domanda ci sono e poi ci vediamo invece sennò alle firme. Ah c'è, eccolo lei. Sì, chiamo Paolo e devo fare una difesa di ufficio, perché sono un fisico delle particelle. No, Gesù, dai. Va bene, non importa, allora io la spieghiamo dopo. È una difesa scherzosa, perché penso che a parte uno che conosciamo e non voglio nominare, piuttosto anziano, la maggior parte, anzi credo la quasi totalità di fisiche e particelle, come tutti gli scienziati, valutando misure e interpretazioni teoriche, sono convintissimi che quello che sta succedendo è un fenomeno a causa non solo umana, ma a causa, cioè, a conseguenze possibili terribilmente preoccupanti. Quindi, diciamo, non c'è una guerra fra scienziati, c'è qualche scienziato che per interesse suo sta cavalcando altri temi o altre cose. Sì, naturalmente è un po' esagerato per non stare proprio a specificare sempre. Grazie, comunque vi fa piacere. Vediamo se c'è qualcuno ancora. Sì, naturalmente questo nel libro viene trattato un po' tangenzialmente, perché riguarda i cambiamenti climatici del passato nella nostra penisola. Va bene, allora vi saluto ancora e ci vediamo lì giù. Grazie. 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 Grazie.